Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù gli dispose Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette A questo proposito il Regno dei Cieli è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servi Incominciati i conti gli fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti Non avendo però costui il denaro da restituire il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva e saldasse così il debito Allora quel servo, gettato si a Terpica Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa Impietositosi del servo il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito Appena uscito quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva cento denari e afferratolo lo soffocava e diceva Padere Il suo compagno, gettato si a terra, lo supplicava dice abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito Ma egli non volle esaudirlo Andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito Visto quello che accadeva gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te E sdegnatosi Il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non gli avesse restituito tutto il dovuto Così anche il mio padre celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello Fratelli carissimi, la quaresima è un tempo meraviglioso È un tempo in cui veramente, come abbiamo visto all'inizio proprio il mercoledì delle ceneri Il Signore ci invita a chiudere la porta del nostro cuore e a scenderci A scendere nel fondo, più fondo, più fondo della nostra vita del nostro cuore per scoprire quello che c'è e che cosa c'è oggi nel tuo cuore Cosa illumina questa parola, questa parabola Illumina la totale sproporzione che esiste tra il nostro debito e la possibilità di rifonderlo Io non so se abbiamo ben chiaro questo Probabilmente no Altrimenti non giudicheremmo Altrimenti non ci verrebbe neanche lontanamente in testa di giudicare, di non perdonare di non avere pazienza con gli altri con tuo figlio, con la moglie, col marito, con il collega con i genitori, con chi c'è accanto con te stesso Il re aveva condonato diecimila talenti Interessante sapere questo Era una somma esorbitante Se si pensa che la rendita annua del regno di Erode era di novecento talenti La somma corrispondeva a trecento sessanta tonnellate di oro o di argento Un talento un talento era pari a sei mila denari mentre uno stipendio medio era di trenta denari Diecimila talenti significavano dunque sessanta milioni di stipendi quotidiani Facendo due calcoli scopriamo che per pagare questo debito il servo avrebbe dovuto lavorare circa tenetevi forti duecentomila anni Tu ed io abbiamo un debito del genere nei confronti di Dio Basta prendere i dieci comandamenti Basta prendere un un comandamento qualsiasi Onora tuo padre e tua madre Non desiderare la donna ad altri Perché Perché il Signore usa questa cifra così esorbitante così abnorme quasi infinita Perché? Dice un salvo Chi di noi può pagare il prezzo di una vita? Il suo riscatto La vita di una persona è la vita di Dio è opera di Dio La tua vita la mia vita la vita di chi c'è accanto la vita di ogni persona ha un valore inestimabile Uccidere nel cuore una persona significa macchiarsi di un delitto atroce non c'è prigione non c'è prigione che che basti per questo c'è un paradosso in quello che appare nella parabola non c'è condanna forse di fatto neanche una condanna a morte neanche l'occhio dente per dente di fatto le legislazioni contemporanee a Israele non avevano occhio per occhio dente per dente avevano per un occhio dieci cento mille occhi cioè il diritto si pagava con una moltiplicazione quasi esponenziale eh di vittime di sangue proprio perché nell'uomo c'è una dignità c'è una c'è un valore che 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 non è è computabile è chiaro che se uno non ha questo chiaro non può neanche avere chiaro il proprio delitto il proprio peccato se tu dici stupido a un tuo fratello meriti la genna ma che che assurdo no perché tu disprezzando un fratello disprezzi l'opera di Dio per quanto quel fratello sia debole ferito peccatore quel fratello appartiene a Dio quella persona è stata creata da Dio io non posso approfittarmi di Lui non posso ingannarlo uno sguardo impuro uno sguardo sensuale pieno di concupiscenza verso una ragazza una donna non è un giochino noi siamo deboli ma certamente certamente chi dice che non siamo deboli siamo tutti deboli dicendo da me assolutamente è una lotta costante si cade come se si cade ma quel cadere suppone l'impossibilità di riscattarsi questo è quello che credono le religioni naturali tutte le religioni naturali pagane animiste eccetera prevedono tutto un processo un rituale di purificazione vi invito a vedere un piccolo pezzettino del film The Mission molto molto bello il film The Mission molto sulle missioni nel Paraguay dei gesuiti e con Robert De Niro protagonista che si era macchiato appunto di un omicidio a parte tutto quel punto che aveva fatto con la tratta degli schiavi eccetera e dentro di sé sente un'angustia poi tra l'altro questo era suo fratello ma dentro di sé portava un'angustia un'angoscia un peso diventa novizio gesuita deve salire su alla missione risalendo il fiume Paranà sulle bellissime cascate di Guasù portando un peso enorme caricato sulle spalle l'immagine che tu devi assolutamente in qualche modo cercare di espiare quella colpa non è possibile io non so se tu oggi ti senti in debito con qualcuno io non so se nel fondo nel fondo del nostro cuore sentiamo un'angustia sentiamo che sì che sì che abbiamo un debito che con qualcuno abbiamo davvero molto 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 da restituire la sorgente dell'infelicità nasce qui fratelli carissimi nasce dalla sproporzione che esiste tra i nostri peccati e la capacità che noi abbiamo con le nostre forze nella nostra carne di espiare di ricomporre di ricostruire di ricucire un divorzio nasce anche da quell'incapacità di perdonare la questione posta da Pietro è il perdono quante volte devo perdonare mio fratello quante volte devo perdonare mia moglie e qui ci sarebbe tutta una catechesi sulla indissolubilità del matrimonio e dove si fonda l'indissolubilità del matrimonio quante volte devo perdonare mio figlio quante volte devo perdonare chi mi ha fatto del male quante volte devo perdonare chi mi ha stuprato chi mi ha rubato l'onore chi mi ha tolto i soldi chi mi ha fatto le scarpe sul lavoro il condomino che continua a non pagare le tasse che continua a fare ingiustizie quante volte io dovrò perdonare una volta sola 70 volte 7 anche questo è un numero per dire infinitamente e infinite volte sempre 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 è chiaro che in questa società giustizialista non si comprende questo per questo questa società è alla frutta per questo questa società cerca costantemente sfoghi nei diritti nei piaceri nei desideri cerca oasi per accarezzarsi per darsi piacere per consolarsi perché perché è una società che è senza Dio è una società senza misericordia è una società dove tutti sono nemici nemici tra nemici costantemente non esiste la possibilità di perdonare non esiste non esiste vedevo una cosa in televisione una serie qualche volta quando voglio riposare un attimo vedo una serie mi piacciono molto c'era una serie c'è tutto esce fuori una frase dimenticare non posso dice una ragazza rispetto a quello che è stato suo marito e tutta una serie di situazioni perdonare non posso ma il perdono è molto importante perché se non annulla il passato e dice riesce a dare speranza per il futuro questo è il massimo che una persona può pensare ma una due volte no 70 volte 7 e comunque non cancella il passato il passato rimane lì come un macigno il passato rimane lì come un macigno per questo il il servo debitore che ha visto condonarsi tutto il debito uscito fuori prende per il collo l'altro che gli doveva una cosa irrisoria una cifra irrisoria il problema di questo debitore è il tuo il mio problema il problema di questa società qual è il problema che non conosciamo l'estinzione del debito la trasfigurazione del passato la gloria delle piaghe di Cristo certo il male che ho fatto rimane male il perdono non fa diventare quel male un bene assolutamente dice Giuseppe quando incontra i suoi fratelli dice voi avete pensato il male quanto di me ma Dio ha pensato di trasformare quel male che rimane male in un bene cioè da quel male ha tratto un bene è stato Dio che ha permesso tutto quello un suo discernimento impressionante ma non significa questa è figura di Gesù Cristo ma non significa che quello che hanno fatto i fratelli è bene è magicamente questo misericordismo che c'è oggi tanto di voga di chi interpreta il Papa come gli pare chi sono io per giudicare tutto questo no 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 il Papa parla molto seriamente ma è chiaro che se noi estrapoliamo le frasette che prendono i giornali i servizi televisivi eccetera eccetera in fondo perché perché bisogna legittimare tutto ma il problema non è che la società sia cattiva il problema non è che le persone siano cattive il problema non è che vendola sia particolarmente malvagio no il problema qual è il problema è che non hai conosciuto la misericordia non hai conosciuto il condono totale del debito l'estinzione per questo il passato continua a ritornarti dentro non ti sei mai sentito liberato grava su di te ancora la spada di Damocle di dover rifondere quel debito e questo è il punto quell'uomo quel debitore scoperto con il male tra le mani con quel furto non si sa come ha fatto a fare quel furto e lo ha fatto e lo dicevo prima quando quando io uccido una persona nel mio cuore quando io uccido quando io giudico quando io parlo male tolgo l'onore calunnio una persona le chiacchiere quella cosa che ripete quasi sempre Papa Francesco sono terribili al bar quando tu parli di quel collega vedi lì parli con hai visto quello mamma mia il beige lo fa passare sempre a quell'altro è vero non è vero importa poco importa che tu a un terzo a un'altra persona hai parlato male di quello di quel tuo collega hai messo dentro a quest'altra persona con la quale tu tranquillamente ti sosseggi un caffè ti prendi un cornetto la morte quello con cui stai prendendo il caffè quando vedrà il tuo collega lo vedrà con questo pregiudizio con questo giudizio che tu li hai iniettato dentro questo non apprezzo non apprezzo di fatto sul letto di morte tutti i peccati sono perdonati ma se tu dici che hai calugnato tal detali per ricevere la soluzione dovrai riabilitarlo scrivendolo dicendolo pubblicamente una condizione per essere perdonati sul letto di morte prima di morire ma dovremmo stare tutti i giorni a riabilitare un fratello vero? quante volte tu cominci a parlare di tuo marito con le tue amiche con tua madre ah mio marito ah Paolo ah Giuseppe mamma mia che può fare tua madre con tutto questo marino che gli viene addosso fatto questo esempio potremmo farne altri migliaia ma quello c'è un valore infinito in tuo marito c'è un valore infinito in quell'uomo in quel collega per quanto disonesto sia per quel collega Cristo è stato il suo sangue per quel collega non è sotto la tua giurisdizione non è sotto la tua giurisdizione capisci? altra cosa è fare il dirigente eccetera ma neanche lì voglio entrare sto dicendo queste chiacchiere banali la banalità del male parlava la grande filosofa Arendt la banalità del male che non è soltanto i nazisti la banalità del male quella facciamo ogni giorno con le battute con le ironie con le prese in giro con sempre costantemente beffardi eccetera 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 anzi va bene vediamo un'immagine pornografica quella ragazza nuda in posizioni terribili che si vede nella pornografia tu la stai uccidendo eh no a parte il peccato che puoi compiere nello sguardo eccetera eccetera ma tu di fronte a quella persona quella persona anche se lei stessa ha deciso di essere un oggetto e di fare i soldi facendo diventando un pezzo di carne in vetrina non ha perso lo abbiamo visto con la parabola del figlio prodigo non ha perso la sua dignità di creatura del Dio anche se è nascosta c'è una firma Dio nella sua vita e se io la uso come un giochino come un non parliamo poi con una prostituta non parliamo poi con il rapporto con un amante non parliamo poi l'uso che si fa della nostra mia nostra moglie pornografico per soddisfare il proprio piacere non parliamo dell'uso che facciamo dei fratelli delle persone che sono accanto a noi per soddisfare i nostri i nostri bisogni affettivi però tutto questo è un debito infinito fratelli scoperti non possiamo fare altro che inginocchiarci ma questo uomo fa una preghiera strana fa una preghiera stolta perché perché dice abbi pazienza con me perché io ti restituirò ogni cosa avete fatto caso che è stato venduto lui la sua famiglia e i suoi beni con i figli il male il male un male una chiacchiera che fai al bar ritorno lì o qualsiasi altro peccato coinvolge la tua famiglia coinvolge i tuoi figli capisci 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 Antonello quella mormorazione che fai ad alta voce getta in prigione cioè distrugge la tua famiglia e c'è lì dentro un veleno malefico che arriverà arrivare a tua moglie arrivare al tuo marito arrivare ai tuoi figli arrivare ai tuoi genitori non c'è speranza non c'è speranza umana ma questo uomo pensa sì sì perché questo è l'obiettivo del demonio ti prende ti spinge a peccare illudendoti di essere come Dio quando sei scoperto invece di inginocchiarti con un cuore veramente contrito veramente umiliato dicendo Signore io non posso fare niente solo la tua grazia mi può aiutare tanto vedo che poi San Paolo sentirà dal Signore toglimi toglimi quella spina toglimi quella spina e Gesù gli dice ti basti la mia grazia perché la mia potenza la mia misericordia il mio potere sulla morte si manifesta pienamente nella tua debolezza che poteva fare San Paolo stava andando a uccidere i cristiani che puoi fare tu che puoi fare tu non puoi fare nulla questo è il cuore della quaresima questa è la vita cristiana questo uomo no questo uomo si illude ancora ingannato dal demonio che è il terzo punto con cui ci attacca ancora pensi di essere come Dio ancora pensi di poter rifondere il debito e rimane con questo pensiero dentro non capisce che che Dio come il padrone immagini di Dio si impietosisce cioè ha pietas le viscere di misericordia di Dio gli condonano tutto il debito cioè fanno una cosa che rompe tutti gli schemi religiosi tutti gli schemi culturali tutti gli schemi di giustizia i tentativi di giustizia che mette la società Dio oggi è uno scandalo quelli che parlano di misericordia anche quelli che non sono nella chiesa senza sapere che cos'è la misericordia ne fanno una cosa terribile una cosa puzzolente un feticcio un non so che cosa un giochino per legittimarsi per sentirsi meglio per sentirsi a posto con la propria coscienza la misericordia non è questo la misericordia è Dio che scende dove l'uomo è completamente prostrato e condona condona rompe quel cerchio di morte rompe quella ineluttabilità del male e lo può rompere soltanto tagliando come appare nella scena che vi dicevo prima tagliando quella corda perché precipiti tutto questo senso di colpa tutto questo che molto volte è buono il senso di colpa ma quando diventa un moralismo un giudizio verso se stessi quando diventa una cosa di insopportabile questo lo taglia lo taglia tutto quello che noi facciamo tutto il giustizialismo che abbiamo tutte le indignazioni tutto questo nasce da un cuore che non ha conosciuto il perdono e che si giudica prima di tutto a se stesso e poi giudica gli altri politici e tutti gli altri questa società non conosce misericordia conosce l'assismo conosce relativismo ma non conosce misericordia perché la misericordia suppone Cristo crocifisso suppone che Dio abbia lasciato che tutto il male arrivasse sul suo figlio per questo può perdonare e condonare tutto il debito perché quel male è arrivato sulla carne di suo figlio ha distrutto la vita di Cristo la ridotta a poltiglia frustrate frustrate chiodi quel male quella condanna che doveva venire a te quella prigione quella situazione è arrivata sul corpo di Cristo ma Cristo è risorto Cristo è risorto quindi ha pagato lui fino all'ultimo spiccio per questo è Cristo è Cristo la garanzia del condono e Cristo dice io garante io al posto suo un cristiano è uno che ogni giorno sa che dovrebbe andare in quell'istante stesso adesso alla serie elettrica e arriva la grazia del presidente all'ultimo secondo perché qualcuno ha pagato per lui ma non una cauzione qualcosa di molto più grande quest'uomo pensa il contrario pensa che è stata data una dilazione per questo prende per il collo quell'altro non ha conosciuto il perdono e il punto è tutto qui chi non ha conosciuto il perdono non può essere cristiano non è cristiano ma chi ha conosciuto il perdono non sa vivere se non perdonando chi ha conosciuto il vero perdono chi ha conosciuto che Dio che ha sperimentato una sua vita che Dio ha avuto misericordia vera e gli ha condonato il debito lo ha tirato fuori da quel carcere non può altro che fare che andare a aprire le porte del carcere degli altri non a infilarceli ma a liberarli perché diventa lui stesso misericordia pura misericordia che ha due gambe una mente un cuore una bocca questo è un cristiano uno che vive costantemente con amore con misericordia con la stessa misura con la quale è stato misurato misura anche lui appoggiandosi alla lunganimità di Dio cioè è un uomo che è entrato in un altro mondo che è passato da questo mondo al padre già con Cristo un cristiano è passato da dagli schemi dalle categorie dalla giustizia umana alla giustizia di Dio vive così vive crocifisso per gli altri costantemente perdona 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 vive la sua vita con la preghiera del cuore Signore Gesù figlio di Davide abbi pietà di me che sono un peccatore e sa quello che dice sa costantemente quello che dice e se ha pietà di te come puoi tu non avere pietà di chi è come te o forse meglio di te come puoi non avere pietà delle persone che ti sono accanto non cerchi la giustizia umana perdoni cioè il passato non esiste più il passato non esiste più come un peso perché tutta la storia è stata ricapitolata in Cristo la storia della tua famiglia la storia la tua storia la storia della persona che ti è accanto è ricapitolata in Cristo l'altro forse non lo conosce non lo sa e forse lo può conoscere soltanto incontrando un graziato cioè te e questa è la Pasqua fratelli questo è il cammino quaresimale che siamo chiamati a compiere ogni giorno una vita graziata per questo dice vivi in grazia questo significa vivere in grazia essere stati graziati essere stati colmati di questa misericordia pagata a caro prezzo al prezzo del sangue di Cristo pensa che valore infinito ha la tua vita pensa che valore infinito ha la tua vita se Dio ha inviato il suo figlio per perdonarti per condonarti il debito per riscattarti dall'inganno dalla menzogna dal peccato dalla morte questo valore infinito ce l'ha chi ti è accanto 70 volte 7 no 70 volte 7 vuol dire sempre sempre perché il valore della persona che è accanto il sangue che Cristo abbia alzato per lui non si cancella si cancella il debito ma non si cancella la dignità infinita di ogni persona di ogni uomo il più distrutto il più derelitto che sei tu e che sono io coraggio fratelli c'è una misericordia infinita che ci aspetta vera vera autentica cruda molto molto seria la misericordia che ci abbraccia dalla croce del Signore nostro Gesù Cristo buona giornata buona misericordia